Ok ce la possiamo fare, cioè sto finendo gli ultimi ritocchi e poi penso che crollo letteralmente. Grazie. 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 Perché non lo so, non lo saluti, ciao. Stiamo tutti esauriti. Sta facendo male tutto, ma devo finire sta... io mi faccio le unghie, regà, mi sento male. Allora, io ho quasi finito, mi mancano le ultime due tre cose e ho finito. Direi che ne ho avuto abbastanza, va benissimo così, se lo facesse andare bene, tanto c'è i voti preimpostati, io che mi sono impegnata a fare non lo so, tanto c'è già i voti preimpostati e mi sono impegnata inutilmente, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora, quanto ti rappresento, le metto 7-8, cioè ne posso pure impegnare a fare un lavoro di Cristo, tanto è inutile, cioè ho 7-8, va un po' come gli pare, mettiamola così. Comunque, se sto facendo storia, per chi me lo sta chiedendo, visto che state rispondendo voi, grazie. Sto cercando più foto possibili da mettere in un angoletto carine. che cosa sta facendo? Ce la faremo? E l'1 e 20, di già? Santo Dio. Allora, puntiamo un bel grafico alla fine, perché comunque facciamo anche economia, una, quindi nel dubbio buttiamocela pure quella. Questa è prima quella mondiale, a me serve la seconda. Sto facendo male il ginocchio, di qualcosa per la crescita, ma in verità io quando sono ingrassata, vabbè, io prendo la pilla per regolare il ciclo, quindi sono cresciute così, ma ho altre mie amiche che la prendono, non è che è cambiato qualcosa, diciamo che è una cosa soggettiva, non riesco a trovarlo. Un grafico che mi serve. Sì. 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 Quanto ti mancano? Sto vedendo le ultime cose proprio gli ultimi ritocchi e ho finito cioè sto addolvendo in piedi non so se lo state notando ma Sto perdendo colpi sta iniziando a bruciare gli occhi poi dovrei mettere gli occhiali solitamente perché ci vedo, però vabbè questi sono altri discorsi. Grazie.